Ci spostiamo adesso sulla spiaggia di Rimini, in particolare proprio alla colonia bolognese dove tornano gli amici dell'associazione Il Palloncino Rosso, non solo loro, tanti altri amici e associazioni per un festival. Il festival è l'appuntamento, anzi è colonia in aria ma è parte di un festival più ampio, il festival diffuso Inno al Perdersi che coinvolge diverse località della costa romagnola. Prima di parlarne con l'ideatore però una piccola premessa perché appunto per il palloncino rosso e per gran parte della città è l'occasione per tornare in un luogo che negli ultimi anni proprio grazie all'attività dell'associazione è stato restituito alla città, la colonia bolognese, uno spazio davvero affascinante che per tre stagioni l'associazione ha reso vivo, ha in qualche modo aperto per realizzare incontri, mostre e soprattutto per restituirlo alla cittadinanza, uno spazio abbandonato che proprio diciamo fa parte delle attività, degli obiettivi dell'associazione è quello di riutilizzare spazi che altrimenti rischierebbero di finire in mano al degrado. Un bel progetto che appunto è stato anche molto apprezzato da parte di tutti quelli che negli anni scorsi hanno vissuto la colonia che però purtroppo con la fine del progetto che doveva essere diciamo così una sorta di calcio d'avvio per riconsegnare la colonia alla città una volta che l'associazione ha finito diciamo così il suo lavoro, è un pochino sfumato e oggi la colonia bolognese è un po' solo una quinta della Beach Arena e poco altro, insomma uno spazio che rischia di tornare di nuovo un po' in secondo piano ma per fortuna non questo fine settimana perché appunto ci sarà un appuntamento del festival diffuso in No al Perdersi e noi per raccontarci, per farci raccontare come è nato questo festival, di che cosa parla e soprattutto anche quali sono gli appuntamenti di questo sabato quindi quelli riminesi abbiamo al telefono Francesco Tortori. Ciao Francesco buongiorno. Buongiorno grazie dell'invito. Grazie a te per essere qui con noi. Allora io partirei proprio dal nome di questo festival che è un invito molto suggestivo in No al Perdersi, perché? Perché ci si può perdere in una strada, in un bosco ma anche nella mente, in un incontro, lo stimolo dell'associazione di spazi indecisi che l'associazione che organizza questo appuntamento insieme a tante realtà è quello di stimolare alla curiosità verso la città e le nostre città, il nostro territorio, non dando indicazioni precise ma invece stimolando a un incontro un po' curioso con la storia, la memoria e i luoghi che appunto abitiamo o non abitiamo ma in qualche modo almeno conoscere sarebbe necessario. Un po' quindi come quasi anche una flannerina, l'idea di passeggiare, di perdersi per la città e farsi stimolare da quello che si incontra. Quali saranno un po' gli appuntamenti, anche i momenti principali dell'appuntamento di sabato? Diciamo che l'appuntamento di sabato si inserisce all'interno di una serie di iniziative che sono partite ieri a Forlì perché l'associazione di spazi indecisi insieme a Cittadieva gestisce un luogo a Forlì che si chiama XATR. Ieri abbiamo incontrato ex lavoratori, abbiamo allestito il deposito mostrando la storia e le memorabilia raccolti in questi anni attraverso appunto questa relazione con ex lavoratori e con quello che abbiamo trovato all'interno. Stasera la tematica sempre in XATR riguarda la darsena di Ravenna che in questi anni è stata diciamo al centro di tanti mutamenti. Ultimo qualche settimana fa l'abbracchimento di due torri di raffreddamento a cui una parte di città sicuramente amava. Era affezionata, sì. Esatto perché caratterizzava sicuramente un paesaggio. Ci sarà un intervento di Adriano Zagni, un fotografo e un sound designer e la proiezione in occasione di 60 anni della sua uscita di deserto rosso di Antonioni che fu ambientato in darsena. Poi venerdì la tematica diventano le discoteche abbandonate. Insieme a Magma, un collettivo artistico, ci sarà una serata che parte dal sound diciamo delle discoteche della Riviera per poi portarci appunto in una deriva musicale che vedremo dove ci porta. Poi sabato per la volta di Rimini insieme al palloncino rosso, Arte Vento, Rimini, Terme e Blue Beach organizziamo questa giornata dedicata diciamo alle famiglie con dei laboratori per costruire aquiloni. Faremo volare gli aquiloni e metaforicamente vorremmo in qualche modo colorare e riattivare la colonia dando di nuova forma, una nuova diciamo poesia, un luogo che era per bambini e che ora come un po' ce ne aveva prima invece nello stato di abbandono. Domenica ci spostiamo invece in Appennino, faremo una camminata appunto nella Romagna Appenninica insieme a degli amici appunto della montagna. Il festival si chiude lunedì invece a Imola, a Villa Muggia, una villa diciamo questa vita ristrutturata durante il novecento ma di origini diciamo barocche e porteremo due musicisti che suoneranno appunto musica barocca con un clavicembalo e la voce. L'idea chiaramente di tutto il festival è portarci in posti nuovi da una parte e facendoci aprire delle riflessioni sul passato e futuro e il presente di questi luoghi ai margini. È davvero un tour estremamente anche ampio oltre che affascinante che tocca a tanti luoghi in Romagna, luoghi come accennavi tu anche abbandonati oggi ma che invece in altri periodi hanno raccontato tanto del territorio e forse anche oggi nel loro abbandono raccontano qualcosa, raccontano di come è cambiata anche la percezione di un territorio. Come è stato anche mappare questi questi luoghi, no? Immagino nel momento in cui lavoravate al festival anche decidere dove andare in qualche modo rendersi conto di come il paesaggio e anche la cultura architettonica offrisse tanti tanti spazi che oggi sono lasciati un po' a loro stessi. Cioè che Spazio Indecisi nasce proprio attraverso una mappatura dell'abbandono partendo da fuori lì e poi allargandosi molto velocemente grazie al contributo di tante persone a una riflessione su tutta la Romagna. Tant'è che è nato un museo un po' particolare diciamo che si chiama In Loco, Museo Diffuso dell'Abbandono, che raccoglie una settantina di luoghi che reputiamo interessanti e da portare nel futuro se non altro come memoria, no? Perché un po' come cena di tu hanno ancora un afflato vitale, sono tante le storie che si celano al loro interno e anche direi anche dei sogni che possono ancora in qualche modo essere portati al loro interno per farli rivivere. Quindi sostanzialmente questo museo e la nostra ricerca ha proprio l'obiettivo di raccontare dei caratteri romagnoli, identitari di un territorio, appunto la vita al mare, l'architettura tra le due guerre durante il periodo del ventennio, un lavoro che cambia, la vita in Appennino che chiaramente durante il Novecento è cambiata e quindi attraverso l'abbandono cerchiamo di raccontare un mutamento sociale, economico e culturale di un territorio non in una chiave diciamo nostalgica ma in una chiave leggera e di sogno, di prospettiva futura ecco. Francesco grazie per questo racconto e per questo tour virtuale a cui ci hai accompagnato e tra l'altro sia sul sito dell'associazione che sulle pagine social trovate il programma completo degli eventi di cui abbiamo parlato, di cui ci ha raccontato Francesco che si snocciola proprio in questi giorni fino a lunedì in vari luoghi della della Romagna. Francesco grazie ancora e buona giornata. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Saluti. E noi prima di salutarci rimaniamo ancora un attimo su questo su questo festival perché approfondiamo un altro po', siamo adesso sulle pagine del nostro sito newsrimini.it, gli altri eventi che si svolgono proprio questo sabato alla Colonia Bolognese e quelli a firma anche del palloncino rosso perché ci sarà la mostra fotografica, storie di Colonia, racconti d'estate bolognese e novarese realizzata proprio dall'associazione riminese e poi in particolare uno degli appuntamenti più attesi alle 17 il tour guidato intorno alle colonie bolognese e novarese con a cura di Silvia Capelli, architetta e volontaria del palloncino rosso e Luca Villa che ha curato la ricerca a fonti, coautore mostre e volontario sempre dell'associazione. Il punto d'incontro è il parcheggio libero della Colonia Bolognese, l'incontro, il momento insomma è gratuito e aperto a tutti ma è consigliata la prenotazione proprio per aiutare l'associazione a organizzare tutti i movimenti necessari. Dalle 18 in poi ci sarà l'aperitivo e il DJ Set in collaborazione come ci raccontava Francesco con Blue Beach e Rimini Terme. Quindi una bella giornata, un bel sabato pomeriggio per riscoprire un luogo del nostro territorio particolarmente amato ma anche per riscoprire la storia, stare assieme e fare insomma un tour nel passato e un bel pomeriggio.